io sono uno che quando vai in una città non mi piace cercare le case cioè io nel senso la prima che ti trovo mi piace la prendo sedia lì caffè poi vabbè il mare non sempre si vede perché a volte c'è tipo frescolino lì allora vabbè giocare al mare giocare al mare però io sincero in quella nebbia che c'è lassù c'è chi si abitui alla fine c'è casa però quando vedi anni invece poi vabbè qui c'è adesso c'è un clima fantastico se chiamo i miei genitori sono lì tutti così esca al mattino ci hanno adesso mia mamma non esce più perché zona rossa tutto però beh infatti quando richiamo di no qui ci sono 15 gradi fai dato te stai lì e vuoi star qui a posto un amico di mio papà faceva l'allenatore della mia annata perché prima io non sarei mai andato a giocare a calcio perché c'era diciamo non avevo stimoli capito allora da lì ho iniziato ma poi fa totalmente altri tanti sport insieme al calcio cioè poi andavo in una scuola che era tipo il collegio si chiamava collegio e lì c'era sia karate basket ginnastica artistica per le ragazze e così allora ho fatto anche basket cioè facevo in contemporanea basket e calcio il basket lo stavamo lasciando perché comunque arrivata una certa età devi prendere una decisione non puoi fare tutte e due le cose però nel frattempo ci è rimesso anche uno sport che si chiama flag football sarebbe football americano ma diciamo che non c'è il contatto fisico ma per fermare l'azione devi tirare i due bandierini sono qua fatto subito la serie di a 16 anni mi hanno subito messo in una squadra olginatese si chiama no olginatese provincia di ecco e poi mi ha preso l'inter a me un mio compagno e poi siamo andati lì a fare la beretti e c'era tra beretti primavera però mi allenavo in primavera però giocavo sempre in beretti poi abbiamo vinto lo scudetto diciamo che poi l'anno dopo non c'era più spazio per me all'inter perché c'era gente giustamente più forte di me e quindi ho deciso di cambiare rotta andare a pescara 17 anni prima volta fuori casa diciamo che non era facile però beh se volevo intraprendere questo lavoro qua prima o poi bisognava prendere una decisione infatti con la mia famiglia poi con la mia ragazza che tutte e due le figure sia la ragazza che la famiglia e mi davano l'ok diciamo ogni due settimane andava a casa perché mio papà quando giocavo a pescare in casa mi portava sempre a casa e poi lunedì tornavo per la scuola perché il direttore del pescare settore giovanile voleva che i giorni di scuola non ne saltavano neanche uno ho fatto i primi tre anni liceo sportivo a gorgonzola vicino a monza poi quando sono andato all'inter ho dovuto cambiare scuola perché la mia scuola non voleva che saltasse certe ore facevo gli orari che volevo io e quindi l'inter mi ha dato l'opportunità di andare all'istituto milano che comunque eravano tutti lì dentro i giocatori dell'inter c'è la ballotelli santon pinamonte tutta sta gente qua e ho fatto finanze marketing e già cambiato completamente indirizzo totalmente quindi come se iniziasse dalla prima liceo però ero già in quarta e poi la quinta meno male che a pescara c'era già questo indirizzo e ho proseguito con questo indirizzo qua e poi mi sono maturato era andata anche a me finito l'anno a pescara diciamo che nell'inter nel pescara che avevano diciamo la priorità di farmi un contratto nessuna delle due ma ha proposto diciamo l'opportunità e per fortuna che c'è stata questa squadra che rende in serie c che a dire la verità quando mio procuratore mi ha detto che c'era sta squadra qua io non sapevo manco che regione fosse queste cose qua però pian piano mi sono informato e tutto e ho guardato mio papà mia mamma e mia sorella ha detto ragazzi è l'unica squadra che mi vuole e che faccio vado non vado va bene mio padre va bene ha detto vai vai che quello mi vuole fuori di casa e do più tranquillità poi vabbè mamma è sempre la mamma che comunque sai ti vuole sempre a casa perché comunque ti coccola tu la coccoli da mia mano a casa quando lei non può e la sorella anche lei diciamo spingeva perché mi voleva fuori dai maroni anche lei io devo ringraziare molto orrende che comunque mi ha dato questa fiducia perché se no non so se sarei qua in questo momento avrei fatto altro magari mi sarei messo a studiare che ne so sinceramente dopo quel quell'annata lì comunque mi sono con cioè mi sono messo comunque a lavorare da solo cioè in palestra sul campo comunque sapevo che qualcosa bolliva in pentola però passano i giorni passano i giorni e niente c'è pian piano diciamo che stavo mollando perché comunque arrivo a luglio comunque squadre sono già quasi completate così e io continuavo a lavorare giorno dopo giorno dopo giorno e procuratore non mi faceva sapere nulla ma non per colpa sua perché le squadre non arrivavano ovviamente la mia famiglia in quel momento lì mi vedeva molto giù cioè molto cioè che non ero in me e e poi grazie a loro diciamo mi ha dato una mano diceva non mollare che prima o poi arriva 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 ed è arrivato è arrivato a chiamate il bari che a dire la verità non l'aspettava neanche ho detto mio procuratore chiudi subito cioè se c'è l'opportunità a falla subito e non mi interessa la lontananza di niente perché ormai gli anni passano e diciamo da solo ormai ci vivi la trattativa sarà durata un giorno due giorni neanche perché poi la juve era favorevole a questa cosa qua cioè non è che mi teneva lì a fare niente era favorevole e sono venuto qua mi hanno accolto veramente come se fossi uno di loro da subito ovviamente con qualche batoste perché fa parte del gioco e poi anche tanti consigli soprattutto da Valerio e anche Alessio Sabbione e comunque sono gente che diciamo i consigli proprio gli aspetti a braccia aperte cioè con le orecchie belle spalancate perché comunque loro hanno già fatto tante di quelle partite o campionati vinti che te devi ancora iniziare cioè sei un pischello diciamo ho fatto allenamento quel giorno lì che era un mercoledì adesso non mi ricordo la data precisa che io dovevo andare a una cena con semenzato no? e io gli dico semen io cioè mi sono messo sul divano e ho detto non ce la faccio non riesco a venire da te come devo fare? e lui mi fa no no tranquillo vengo io vengo io da te gli ho detto aspetta che ho un po' di febbre mi sento stanco mi sento molto giù cioè non riuscivo proprio ad alzarmi dal divano allora infatti poi ho scritto al dottore ho scritto a Gianluca ho detto Gianluca io ho preso di occhi, tachipirina di tutto ma non mi passava ho detto vabbè sarà stato che sono uscito in maniche corte dall'antistadio allo stadio c'era vento c'era tutto e ho preso che ne so una classica influenza perché poi ho sentito anche un mio amico che ha avuto il covid a Monza e lui mi aveva dato gli stessi sintomi miei cioè che erano stanco che dopo un allenamento anche lui si sentiva stanco con la febbre tutto che aveva freddo infatti il giorno dopo ho detto a Gianluca che non sarei potuto venire in allenamento perché mi girava completamente la testa non riuscivo ad alzarmi dal letto e poi mattinata il dottore mi ha chiamato e mi ha confermato questo tampone positivo e da lì brutti i momenti sono passati perché comunque diciamo avevo appena iniziato a giocare quel momento lì diciamo che era il mio momento ma poi ci sono passati due mesi che poi il covid e poi la visita che è andata male non è facile non è facile però avevo comunque supporto sia dei tifosi che dell'allenatore, dei compagni, di tutti voi e comunque passi, cioè passa questo periodo perché comunque con l'appoggio di tutti passa ciò con la prima minuto a Bisceglie diciamo che è stata una settimana dove io veramente cioè ce l'ho messa veramente tutto per arrivare pronto infatti non so come ho fatto a resistere 90 minuti perché veramente è stato uno sforzo che cioè che è veramente duro è una ragazza che comunque ci tengo tanto ma sia dalla famiglia che dalla sua sorella, da lei comunque sono una brava persona che veramente gli voglio un mondo di bene e lei non mi cagava no? ero lì e guardavo storie qua, like post e non avevo nessun contraccambio no? finché poi c'è stata una festa di un nostro amico che comunque anche lei era invitata e io ero invitata lì ci siamo conosciuti e poi è iniziata la galera Convivenza non son pronto, sincero son pronto perché son troppo giovane perché poi c'ho davanti troppi anni e quindi cioè devo essere bene deciso, convinto perché sennò poi impazzisco e non va bene né per lei né per me il piatto che mi esce meglio è il polo lo so fare in mille piatti tra il curry al forno a padella di tutto, ferri di tutto però vabbè ogni giorno infatti chiamo mia mamma e dico Marco che cucino oggi? infatti lei mi dà o anche la mia ragazza a volte mi amo un po' la mia ragazza le chiamo e mi dicono metti il dado, metti il sale metti di là e li faccio perché sennò è difficile insomma vado in Nutella a mangiare prima giocavo a Fortnite che però è troppo cioè i bambini sono diventati troppo forti cioè i bambini sette anni, otto anni sono diventati troppo forti, incredibile e infatti mi son rotto poi vabbè FIFA c'è ogni anno cioè perché FIFA si riprende ogni anno e adesso mi sto ogni giorno quella roba là da problemi cioè veramente ti fa sfogare non lo so è incredibile incredibile meno male che c'è quella dai io musica mi piacciono un po' tutti i generi cioè da rap al reggaeton a spagnola, italiana, tutto però adesso come adesso Capo Plaza anche se lo conoscete adesso tra due giorni esce il nuovo disco infatti lui è il mio cantante diciamo che mi fa proprio anche prendere le partite concentrare mette la rabbia queste cose qua lui me le fa uscire incredibile la canzone è adesso uscita allenamento 4 però non è così tanto emozionante come credevate però i tuoi amici fanno i criminali ma alle 10 sono tutti quanti a let